Allora, andiamo a vedere qui qualcuno dei problemi che potrebbero insorgere con il PDP. Il primo è quello che riguarda il perché deve essere l'amministratore a fare le varie copie dei PDP. Qui vediamo, ad esempio, che collegato con il mio account da insegnante fittizio, se avessi bisogno di un nuovo PDP in prima A, niente mi vieterebbe semplicemente di creare una copia del PDP e quindi avere un nuovo file all'interno della cartella. Tutti gli insegnanti con cui è stata condivisa questa cartella sarebbero automaticamente abilitati anche alla modifica di questo file esattamente come nel caso precedente, ma al contrario del caso precedente, cioè nel caso precedente intendo quello in cui era l'amministratore ad aver creato il file, possiamo vedere che stavolta, visto che abbiamo fatto noi la copia, siamo noi i proprietari del file e quindi le protezioni che prima erano in vigore non funzionano più. Quindi tutto ciò che prima era protetto ora non è più protetto e l'amministratore stesso, che è proprietario della cartella, ma non nello specifico di questo file, si potrebbe trovare in grossa difficoltà a correggere tutti i vari disastri che potreste aver creato. Quindi questa è la motivazione per cui è meglio che ci sia un solo amministratore che si occupa del setup iniziale in modo che tutti gli altri insegnanti non possano modificare ciò che è la pagina di stampa nei campi protetti. Poi discuterei anche, per chi fosse interessato a questo punto, mi rivolgo a chi ha un pochino più di esperienza con l'informatica, potremmo vedere che cosa succede negli script e come modificare il PDP. Ecco, qui sono ritornato con l'account di amministratore e possiamo vedere che se andiamo su strumenti, editor di script, noi aprirò una nuova pagina con gli script che al momento sono in funzione nel foglio. Vediamo che abbiamo diverse function che semplicemente, come si vede nella descrizione, seleziona il foglio Google che è attivo e il cui nome è stampa normale. Cioè il foglio Google sarebbe questo, tutto il blocco. E di questo foglio lui sceglie il sottofoglio stampa normale e attiva, diciamo, quello. Quindi, se io per esempio da Home decido di andare su, non so, informazioni generali, a parte che mi richiede l'autorizzazione perché stavolta sono con un altro account, comunque avete visto nel video precedente che lui mi manda a quel foglio lì. E qui vedete tutti i vari rimandi a tutti i vari fogli. È semplicemente una riga di codice per ognuno. E questi codici sono stati associati alle immagini, per esempio delle frecce, che posso vedere con tasto destro e cliccando sui tre puntini. Vediamo che qui su Assegna script è assegnato lo script chiamato modulo, che non è altro che questo qui, che quindi manda la pagina chiamata modulo. Per, se avete interesse a vedere che cosa vogliono dire tutti queste funzioni, basta andare su guida, documentazione, e vi manderà nella pagina con la documentazione di Google Script. Alternativamente c'è anche la guida introduttiva per chi fosse poco pratico. Il linguaggio in cui Google Drive permette di creare varie funzioni personalizzate, linee di codice, è il JavaScript. Quindi un linguaggio, tutto sommato, non troppo difficile. Ricordatevi che negli script è necessario salvare da qui. Mentre in tutti gli altri casi, diciamo, dei file di Google Drive, il salvataggio non è assolutamente necessario, negli script è necessario. Quindi, detto questo, chiariamo anche, prima di passare alla parte della modifica, qual è il vantaggio di lavorare su Google Drive. Il vantaggio di lavorare su Google Drive è che più persone possono modificare contemporaneamente, da casa, il PDP. Quindi, se per esempio divido il compito di scrivere un PDP fra due, tre, quattro, cinque insegnanti, quello che è, ognuno potrebbe mettersi su una pagina diversa o anche su linee diverse. Non c'è bisogno che siano necessariamente pagine diverse, basta che non sia la stessa cella. La stessa cella la vedete perché, come adesso io vedo qui il riquadro blu, per aver selezionato questa cella, un'altra persona che si connette nello stesso momento vede questa cella riquadrata con un altro colore, che potrebbe essere magari rosa o verde o quello che è, che segnala che, appunto, un altro utente sta lavorando su quella cella lì. Quindi, a patto di non modificare in due la stessa cella nello stesso momento, il file può essere modificato da tutti quelli che hanno l'autorizzazione e l'abilitazione alla modifica. Contemporaneamente è da casa, quindi eliminando, diciamo, la necessità di riunire persone, dover trovare un tempo per riunirsi in quattro, in tre, o in quello che è per fare le varie modifiche, eliminando carta che gira per la scuola e semplicemente permettendo, magari, che ne so, al coordinatore di compilare i campi più generici, magari il professore di matematica che va a modificare la parte inerente alla matematica, quello di lingue, va a modificare la parte più letteraria o d'italiano, o quello che è. E, insomma, ci si può coordinare molto più facilmente.